In un solo barcone erano stipate oltre 800 persone e i centri di accoglienza sono al collasso. Poteva avere conseguenze ben più grave l'incendio che ieri mattina è interessato a un'abitazione di via Erea a Comiso, in casa infatti due donne di 90 e 50 anni. Riunione operativa a Scoiitti per approntare interventi di ripristino e manutentivi in vista della stagione estiva. L'attenzione è stata incentrata soprattutto sull'escavazione dei fondali del porto e sul progetto esecutivo di banchinamento. Lo Stato di Salute della provincia dei Ragusani al centro del rapporto 2014 dell'ASP7 per l'Azienda Sanitaria Eblea siamo davanti ad una popolazione che nel complesso sta bene. Successo per la prima giornata di celebrazione a vittoria della Convenzione ONU sui diritti per i disabili, a caratterizzare l'evento alcuni momenti ludici ed una conferenza. Un cordiale saluto, lo avete sentito dai titoli, insomma, ieri l'ennesima strage di migranti nel canale di Sicilia, questa volta 10 morti e 6 mila profughi soccorsi. Stipati in un barcone c'erano addirittura 800 persone, mentre nei centri d'accoglienza dell'isola è scattata una nuova emergenza. Un bollettino di guerra, 10 morti annegati, 6 mila persone soccorse, una ventina tra barconi e gommoni in balia delle onde. È stata un'altra domenica di passione per le navi della Guardia Costiera e della Marina Militare, come al solito supportate da mercantili di passaggio e rimorchiatori delle piattaforme petrolifere. E' questa causa del tempo quasi estivo che ha favorito una nuova ondata di partenza dalle coste libiche e centri di accoglienza siciliani di nuovo stracolmi. Una ventina tra sabato e ieri barconi che nel giro di poche ore hanno lanciato l'SOS con i telefoni satellitari. Per le navi dei soccorsi è stata una corsa contro il tempo per evitare l'affondamento dei gommoni, ormai semisgonfi, e il ribaltamento di quelli stracarichi. Solo in uno erano stipati 800 persone e in un gommone la nave Fiorillo ha salvato 397 migranti, in due inoltre sono stati rivenuti i cadaveri di quattro migranti, probabilmente morti per gli stenti della traversata. Altri quattro, corpi senza vita, erano invece tra i 72 passeggeri di un'altra imbarcazione privata e infine altre due persone erano in condizioni gravissime, quasi disperate, tanto che i marinai hanno tentato estrema operazione per rianimarli. Poche miglia più lontane, altri tre morti, tre profughi, che sono annegati nel tentativo disperato di raggiungere a noto un rimorchiatore e all'equipaggio non è rimasto che tirare a bordo i loro corpi tra le lacrime dei 78 compagni di viaggio, a terra intanto nuova emergenza con le prefetture a caccia di posti per poter ospitare le migliaia di migranti che continuano ad arrivare dalla Libia. Un incidente mortale ieri sulla provinciale Bufali Marza in territorio di Ispica, a perdere la vita un 29enne di Ispica, Antonio Pelligre, in sella alla sua Yamaha, si è scontrato con un camion. L'impatto tra i due mezzi è stato terribile e saranno i rilevi dei carabinieri a stabilire la dinamica del sinistro. Il giovane lascia la compagna e un figlio di quattro anni. Ancora cronaca, poteva avere conseguenze ben più gravi. Gli incendio che ieri mattina è interessato un'abitazione di via Erea a Comiso in casa. Infatti due donne, madre e figlia di 90 e 50 anni. A soccorrerle un giovane di passaggio e due agenti del commissariato di Comiso che non hanno esitato ad entrare per salvare le due donne. Due donne, madre e figlia di 90 e 50 anni, sono state salvate ieri a Comiso dai poliziotti del locale commissariato. Erano circa le 12 quando un'abitazione di via Erea è stata avvolta dalle fiamme. A provocare l'incendio, probabilmente, uno scaldasonno dimenticato acceso. Pochi istanti le fiamme hanno interessato il piano terra ed il primo piano. In casa le due donne, madre e figlia, a dare l'allarme a un passante, un giovane di 31 anni che ha notato le lingue di fuoco uscire dalle finestre. Sul posto gli uomini della Polizia di Stato, commissariato di Comiso. Portate in salvo le due donne, tutti gli intervenuti sono stati sottoposti ad accertamenti medici negli ospedali di Vittoria e Ragusa per controllare il loro stato di salute. Per fortuna, nulla di grave né per le due donne né per i loro soccorritori. Sul posto anche le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, è stato rinviato a giudizio a Gela per diffamazione nei confronti dell'imprenditore Salvatore Locascio. La querele era stata presentata dopo alcune dichiarazioni di Crocetta sull'imprenditore che era datore di lavoro di Giancarlo Cancellieri, candidato alla presidenza della regione per il Movimento 5 Stelle. La polizia ha arrestato a Santa Croce un trafficante di droga. Si tratta di un giovane tunisino individuato grazie alle indagini della squadra mobile di Firenze in collaborazione con i colleghi di Ragusa. Traffico di sostanze stupefacenti. Con questa accusa è finito in carcere Ayman Beccia, tunisino di 23 anni. Da prima residente a Firenze si era trasferita a Santa Croce Camerina e operava nel settore dello spaccio di stupefacenti. Le indagini alla squadra mobile del capolugo toscano sono arrivate nella provincia più a sud d'Italia. Indagini iniziate un anno fa e che hanno permesso di raccogliere elementi utili a carico del tunisino che nel frattempo ha sempre continuato nella sua attività di spacciatore. E ieri gli uomini della mobile di Ragusa lo hanno catturato mentre andava a firmare verso un ufficio di polizia in quanto destinatario della misura cautelare dell'obbligo di firma. Una misura che gli è stata applicata in quanto ha commesso innumerevoli in reati in Italia e a suo carico sono tuttora pendenti diversi processi per diverse fattispecie di reato. Il giovane tunisino ieri non era per niente meravigliato della sua cattura e quando ha sentito i capi di accusa formulati dal GIP di Firenze gli è scappata la frase lo sapevo che prima o poi mi avreste preso. Spostiamo pagina, riunione operativa Scojitti per approntare interventi di ripristine manutentivi in vista della bella stagione. L'attenzione è centrata soprattutto sull'escavazione dei fondali del porto e sul progetto esecutivo del banchinamento. Il sindaco di Vittorio Nicosia ha presieduto nei giorni scorsi una riunione operativa Scojitti per fare il punto su alcuni lavori da avviare a breve. Si è parlato infatti dell'istituzione dell'isola pedonale temporanea, del ripristino delle bambinopoli, della riparazione del manto stradale e dell'istituzione delle corse gratuite dei pullman il sabato sera. Durante la settimana si sono svolte anche il riunione a Palermo. È stata tracciata in questo caso la conclusione dell'iter per il pennello a mare a Zafaglione per evitare l'erosione costiera e si è stabilito l'iter conclusivo della presentazione del progetto esecutivo del banchinamento del porto e dell'escavazione dei fondali. In queste riunioni era presente anche il vice sindaco Filippo Cavallo. Inoltre, dopo l'estate, dovrebbero andare in appalto entrambi i procedimenti. A Scoglitti inoltre, durante la riunione operativa, il consigliere di circoscrizione Marco Dezio ha avanzato alcune richieste di interventi per manutenzione e sono stati concordati il rifacimento dei parapetti lungo la riviera, il ribassamento della sabbia vicina ai bastioni e alcune piccole opere di riqualificazione, tutti interventi questi da effettuare entro i primi di giugno. Anche a Marina di Ragusa non mancano i problemi di insabbiamento del porto. Per le gambiente però il comune prende in giro la comunità ragusana. Da un lato dice che non è insabbiato e dall'altro ci sono le draghe al lavoro. Sentiamo il servizio. Il porto di Marina di Ragusa non è insabbiato, però lo dragano. Per le gambiente ragusa le bugie hanno sempre le gambe corte. Prova ne, quest'ennesima presa in giro della comunità ragusana, il re è nudo, osservano gli ambientalisti e lo hanno potuto notare tutti i cittadini che hanno assistito al dragaggio e al deposito delle sabbie nere e male odoranti lungo il litorale della frazione. Ancora una volta quindi si ripete la stessa commedia. Quando cioè si tratta di creare consenza ad una grande opera nel nostro territorio, si alza il coro di politici, amministratori e burocrati dove si magnificano ipotetici vantaggi e si negano i probabili rischi. Tutto per fare inghiottire all'opinione pubblica, rileva le gambiente, l'ennesimo spreco di denaro e l'ennesimo impatto ambientale. Le gambiente auspica pertanto che questa triste vicenda dell'insabbiamento del porto di Marina di Ragusa, ma anche quelle del comprensorio tipo Scoglietta e Pozzallo, serva a far aprire gli occhi all'opinione pubblica su queste grandi opere, utili solo a chi le fa e al sistema politico, amministrativo ed economico che le alimenta. I porti nella nostra costa sono trappole per via della sabbia e contribuiscono ai fenomeni erosivi. Bisogna prima o poi capirlo, conclude l'associazione ambientalista, perché al danno si aggiunge poi anche la beffa. 50 ettari di cemento al giorno per costruire edifici e palazzi nel bel paese, per l'Istituto Superiore della Protezione Ambientale è davvero troppo, tant'è che la definisce la folle corsa al cemento. Nel suolo 2014 il cemento ha coperto 200 km2 di suolo nazionale. Nemmeno la grande crisi ha fermato l'unica impresa comune della quale gli italiani delle ultime generazioni sembrano essersi qualizzati, ovvero il consumo indemoniato del suolo italico, per gli ambientalisti il più evidente dei nostri vari suicidi collettivi. E' questa la più impressionante tra le molte notizie del rapporto 2015 dell'Ispra, dove ogni giorno si perdono 55 ettari, e in totale il suolo consumato è arrivato a quota a 21.000 km2, cioè il 7% del territorio. E in una spirale perversa le città perdono abitanti, ma guadagnano case vuote e sfitte. E i nuovi italiani si addossano oggi un consumo statistico di circa un km2 a testa. Dal governo le promesse che si costruiranno solo opere utili, ma dovrebbe essere ovvio, e che si romperà con le norme di emergenza pro cemento. C'è da fidarsi? Intanto la battaglia contro il cemento portata avanti dalla situazione ambientalista si perde, dicono loro, prima nelle leggi corrotte e poi sul territorio. Dipende in ogni caso dall'azione del governo e che si leggerà sicuramente nel prossimo rapporto dell'Ispra. Per gli ambientalisti comunque bisogna invertire la rotta o leggeremo tra qualche anno che ci siamo suicidati ancora un po'. La scommessa sarebbe facile in questo caso, ma sul futuro delle nuove generazioni non si può certo scommettere. Presentato ad Acate il programma di sensibilizzazione alla solidarietà verso le famiglie bisognose. Lo scopo è avviare un progetto di sostegno utilizzando il social network Facebook. Il Castello dei Principi dei Bischiare ad Acate ha visto la presentazione di un programma per sensibilizzare la cittadinanza alla solidarietà verso le famiglie bisognose tramite il social network. Obiettivo? Avviare un progetto di sostegno a più bisognosi e da qualche giorno è stato creato anche un profilo ufficio assistenza in collaborazione con i servizi sociali che avrà lo scopo principale di creare una comunità di utenti acatesi sensibili all'interno della pagina Facebook for Children. Si tratta, come è noto, di un'iniziativa finalizzata ad aiutare bambini e nuclei familiari in difficoltà. L'idea è venuta all'ingegnere vittorese Dario Gulino, il quale porta avanti da qualche anno la lodevole iniziativa. È seguita, come è noto, una gara di solidarietà che non ha confini territoriali e ad oggi i membri di questo gruppo sono oltre 16.000 e in pochi mesi sono stati aiutati più di 2.000 bambini grazie appunto alla generosità di chi collabora attivamente e che fa a gara per dare il proprio contributo. Tra gli altri è stata aiutata anche una ragazza a non abortire e a trovare donatori di sangue in pochi minuti. Alla presentazione ad Acate del progetto anche l'assessore ai servizi sociali Isauro Amatucci che ha invitato altri comuni a sostenere l'importante iniziativa di solidarietà online. Come sta dal punto di vista sanitario e degli stili di vita la provincia di Ragusa la risposta alla fornita LASP Iblea che parla di una popolazione che diminuisce, tamponata però dalla presenza di immigrati. In provincia di Ragusa si vive nel complesso in un ambiente sano e con alimenti sicuri mentre la popolazione diminuisce. Sono i dati che emergono dal rapporto dell'ASP 7 sullo stato di salute dei residenti nei 12 comuni Iblei. Il dato della natalità continua quindi a diminuire e il rapporto tra nate e deceduti viene per certi versi tamponato dalla numerosa presenza di immigrati. Per quanto riguarda invece le cause di morte sono causate in maggioranza da problemi cardiovascolari. Poi seguono i tumori con un tasso del 26% per gli uomini e del 17% per le donne ogni 10.000 abitanti. Dati questi che sono comunque in diminuzione rispetto agli anni passati anche se sono aumentati i decessi per tumore alla mammella, colon e reni. I tumori nel complesso sono aumentati di poco per gli uomini. Più sostenuto invece l'aumento per le donne le quali sempre secondo la relazione dell'ASP vivono più a lungo in media 80 anni mentre il dato per gli uomini è attestato intorno ai 77 anni. In leggera diminuzione anche i suicidi rispetto al 1988. L'anno scorso sono stati ad esempio 17 contro i 24 dell'anno precedente. Costante infine il numero degli omicidi non più di 3 negli ultimi anni mentre sono in chiaro anche gli incidenti mortali domestici 35 in totale finora contro i 55 dello scorso anno. Un'allegra fila di Fiat 500 ha invaso ieri la città per la quarta edizione del Raduno a loro dedicato. Ad organizzarlo è il coordinamento Club Italia di Chiaramonte con la collaborazione dell'associazione Cinquecentisti Chiaramontani e dell'amministrazione comunale. Quarta edizione del Raduno in Fiat 500 a Chiaramonte-Gulfi promosso dal coordinamento Club Italia di Chiaramonte con la collaborazione dell'associazione Cinquecentisti Chiaramontani e dell'amministrazione comunale l'evento ha trasformato le aree più gettonate della cittadina nella cornice ideale per una kermesse che anche stavolta ha fatto registrare il tutto esaurito. Più di 100 le vetture partecipanti afferma il fiduciario del coordinamento Giuseppe Barresi tante quante ne potevamo ammettere per fare in modo che la giornata scorresse all'insegna della passione comune per queste auto che hanno fatto epoca contrassegnando in positivo la vita di ciascuno di noi. A sfilare anche auto con allestimenti speciali. Le personalizzazioni che è possibile realizzare dice ancora Barresi sono praticamente infinite e in questo caso chi ha ammirato le vetture in sossa statica ha potuto apprezzarne il fascino sino in fondo. Ad animare la giornata anche diverse iniziative fra queste anche la possibilità di divertirsi con il simulatore della cronoscalata Montiblei che collocato a due passi dalla piazza ha tirato l'attenzione di numerosi curiosi. Iniziative del genere contribuiscono a fare crescere l'appeal nei confronti del nostro paese che, ha detto il sindaco Vito Fornaro è diventato meta sempre di più negli ultimi tempi di varie comitive di turisti. Chiama Valorizziamo la città e riguarda la convenzione di un progetto presentato dal comune di Chiaramontegulfi e dalla cooperativa sociale Nostra Signora di Gulfi. Il progetto è finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile per un importo di 236 mila euro di cui 199 mila e 900 a fondo perduto. Obiettivo valorizzare i beni patrimoniali del comune Ibleo con finalità turistica ed educativa e si propone la formazione di giovani tra i 18 e i 35 anni. Si è svolta con successo ieri la prima giornata di celebrazione a vittoria della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. Due i momenti fondamentali le iniziative in Piazza del Popolo e la conferenza al Chiostro delle Grazie. Grande partecipazione ieri alla prima giornata di celebrazione a vittoria della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili. In Piazza del Popolo la giornata è stata animata dai ragazzi della Special Olympics che hanno giocato insieme a quelli delle comunità alloggio e dai cosiddetti normodotati mostrando con la spiazzante evidenza delle cose semplici il vero e profondo concetto di integrazione. Importante anche la conferenza al Chiostro delle Grazie durante la quale i presenti hanno assunto vari impegni. La senatrice Venera Pado e interessata dall'intervento di Giovanni Vindigni direttore dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro si è infatti resa disponibile per avviare dei gruppi di lavoro per applicare davvero sia nel pubblico che nel privato la legge che agevola l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili. Il deputato regionale Pippo Di Giacomo profondamente colpito dal racconto di Gino Cappellini che ha illustrato la giornata tipo di una persona con grave disabilità si è ufficialmente impegnato a portare a vittoria entro fine maggio l'intera commissione sanità per discutere insieme il progetto Vita Indipendente Sperimentale. Bernadette Lobianco impegnata sul fronte del turismo accessibile ha invece incontrato l'associazione Grotte Alte che avrà la possibilità di aprire le escursioni naturalistiche e le altre attività anche alle persone sorde avvalendosi di un interprete LIS. Questa convenzione a cui l'Italia ha aderito sin dagli inizi ed è tra i 75 paesi delle Nazioni Unite che appunto hanno aderito a questa convenzione prescrive agli stati parti cioè agli stati che appunto l'hanno condivisa di cercare di creare le situazioni le condizioni meglio ideali affinché le persone con handicap vengano inserite effettivamente nella società. I vari articoli vanno dall'inserimento lavorativo all'assistenza opportuna per le persone disabili affinché appunto possano effettivamente inserirsi nel contesto sociale. Domani l'annunciato sciopero nazionale contro il disegno di legge sulla buona scuola del governo Renzi e anche la città di Vittoria farà sentire la propria voce con un corteo che si formerà in piazza stazione per poi confluire in piazza del popolo. Sul tappeto la scelta di far assumere i docenti dei presidi e il nodo del precariato e la questione del contratto di lavoro dei docenti. La pagina sportiva ora il Gela ha conquistato ieri l'eccellenza dopo aver battuto sul neutro di San Cataldo il Troina e è bastato un gol di Genova nel primo tempo per vincere la finale play-off. Il Gela del presidente Angelo Puccio fa un passo avanti nel calcio dilettantistico e prova a riavvicinarsi al calcio che conta e che qualche anno fa l'aveva visto protagonista soprattutto in Serie C. La squadra biancazzurra ha battuto ieri per 1-0 il Troina sotto un caldo estivo davanti a circa 2000 tifosi ha deciso un gol di Genova dopo la mezz'ora e nel contesto complessivo la squadra nissena ha meritato il successo alla fine trionfe e festa dei tifosi arrivati a San Cataldo con ogni mezzo festa che poi continuate negli spogliatoi dove lo stesso Puccio non ha mancato di fare i complimenti all'intero team grande gruppo e grande allenatore riferendosi a Bruccoleri e squadra ha detto il presente che ha una base su cui lavorare per il futuro altra vittoria ma in questo caso in ambito ibleo quella della New Pozzallo che è approda in promozione ieri infatti la squadra di Angelo Tasca ha battuto all'Aldocamp dopo i calci di rigore lo Sporting e Obea 6 a 5 il computo finale col difensore Pellegrino che ha realizzato il penalty decisivo e ora rivediamo insieme i fatti in primo piano Ennesima strage di migranti nel canale di Sicilia con 10 morti e 6.000 profughi soccorsi in un solo barcone erano stipate oltre 800 persone e i centri di accoglienza sono al collasso è di nuova emergenza quindi in tutta la Sicilia che ha affrontato un altro weekend di passione con oltre 20 interventi di soccorso in mare a terra in tante di nuova emergenza con le prefetture a caccia di posti Poteva avere conseguenze ben più grave l'incendio che ieri mattina ha interessato un'abitazione di via Erea a Comiso in casa infatti due donne di 90 e 50 anni a soccorrerle un giovane di passaggio e due agenti del commissariato di Comiso che non hanno esitato ad entrare per salvare le due signore madre e figlia a scatenare le fiamme sembra sia stato uno scaldasonno dimenticato acceso riunione operativa a Scoglitti per approntare interventi di ripristino e manutentivi in vista della stagione estiva l'attenzione è stata incentrata soprattutto sull'escavazione dei fondali del porto e sul progetto esecutivo di banchinamento si è parlato anche del progetto esecutivo di banchinamento e tra le altre cose dell'istituzione dell'isola pedonale temporanea del ripristino delle bambinopoli della riparazione del manto stradale e dei pullman per i giovani lo stato di salute della provincia dei ragusani al centro del rapporto 2014 dell'asp7 per l'azienda sanitaria eblea siamo davanti ad una popolazione che nel complesso sta bene diminuisce il numero dei nuovi nati ragusani ma a tamponare la situazione ci pensano i migranti per quanto riguarda le cause di morte poi sono causate in maggioranza da problemi cardiovascolari seguono poi i tumori successo per la prima giornata di celebrazione a vittoria della convenzione ONU su diritti per i disabili a caratterizzare l'evento alcuni momenti ludici ed una conferenza al centro del dibattito l'inserimento lavorativo dei disabili il progetto vita indipendente ed il turismo per i diversamente abili tante le iniziative in programma ed è tutto grazie per l'attenzione arrivederci grazie a tutti